Questo martedì torna la competizione più attesa dell'anno, la UEFA Champions League e come ogni buon host di podcast era lecito dedicarvi una puntata quindi dopo un mese e mezzo di down siamo tornati con Nicola Maltagliati, Andrea Spadoni che dicono che io sei responsabile del vostro calo di ascolti, dicono che io sono il vostro problema Si sbagliano, tu sei un'aggiunta positiva O forse sono vecchio, quando vedono si mandano via Ma guarda, secondo me le persone che pensano questo si sbagliano di grosso Penso dal primo giorno che tu apporti un elemento differente a questa chiacchierata e che secondo me mancava I fan di Cristiano Ronaldo mi rispondono sempre che sono grasso e non posso sparare E vabbè E' una follia, quindi nemmeno Snyder può parlare di calcio secondo me Io prenderei un altro esempio come Wayne Rooney Rooney non può parlare di calcio L'avete visto ultimamente Mamma mia Qui dobbiamo intervenire Se posso fare una digressione prima della Champions League Il fatto Allora, quella foto che è apparsa di Rooney Non è un video che lui batte la punizione Ha fatto un bel gol Che ha fatto una punizione fantastica È diventata oggetto di un'aggressione Di un'aggressione così violenta e offensive nei confronti di Rooney senza senso Io ho visto il web, il mondo che segue Cristiano Ronaldo Uccidere e giudicare in maniera violenta e offensiva Rooney senza motivo Senza senso Cioè una cosa secondo me gravissima Come se uno che ha smesso di giocare Interessasse il suo appeal fisico Cosa che nella vita non conta nulla Come se dovesse essere giusto essere per forza a 40 anni Con 7% di grasso Di massa grassa nel corpo Lui ha smesso di giocare Vive la sua vita La sua famiglia Ci gode Ha dimostrato di avere una classe cristallina Perché tocca il pallone con classe Io non ho capito questa aggressione Questa violenza Secondo me gravissima È simbolo di quanto il mondo che segue Cristiano Ronaldo Sia tossico per il calcio Forse anche il racconto che si è fatto di lui Non ho capito Perché è collegato a Cristiano Ronaldo? Perché è passata l'immagine di Rooney E Cristiano Ronaldo Che hanno più o meno la stessa età E tutti aggredire i Rooney Dicendo guardate che stato è Guardate come si è ridotto Non si può essere così a 40 anni E guardate l'altro invece è perfetto Cioè è stato proprio questo Metterli a confronto Che ha generato un insulto A un grande campione del calcio Ingiusto E volgare Certamente aggredire una persona Anche verbalmente Oppure essere semplicemente molto scortese Nei suoi confronti Non è corretto Però Avete visto le foto di Rooney Si è lasciato parecchio andare E ognuno fa quello che vuole Certo Certo Ma però Si potrebbe Non è secondo me la cosa più illecita del mondo Dire che è fuori forma Vabbè non deve mica giocare a calcio No no Non deve giocare a calcio Ma prendersi cura del proprio corpo È una qualità Allora Secondo me no Spadoni si schiera contro il body shaming Assolutamente Perché siamo sempre qui a combattere Il body shaming Di persone inguardabili Che fanno su Inter A dire Io sono come voglio essere Non mi dovete dire niente Poi le stesse persone Che idolatrano Non voglio dire niente Chissà Ronaldo Di negativo Anzi Anche perché Secondo me c'ha tu solo negativo Chissà Ronaldo Tutte persone che idolatrano Chissà Ronaldo Come modello di vita Si permettono di uccidere Questo ragazzo Che ha smesso giocare Farà quello che gli pare nella vita Allora ti sbagli Questo campione Questo ragazzo Ti sbagli sicuramente Io vorrei sapere Come Come proprio sei giunto La conclusione Che siano i fan di Cristiano Ronaldo Legge A commentare proprio in questa maniera Legge Perché i media Se sei in grado Di dimostrare che Sono proprio questo gruppo Di persone Certo Ok I Cristiano Kids Dubito 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 Tu sia in grado Di farlo Lo faccio perché ti spiego Che i media Sono i media Non i media Più Di alto livello Ma I media I new media Ovvero le pagine di Instagram Che parlo di calcio Tutto quei mondi lì Che hanno Appena Hanno visto Rune così Hanno preso la foto sua E l'hanno messa accanto A quella di Cristiano E hanno fatto Milioni di post Che hanno girato Il mondo Con lui Che sono andato accanto A dire Ma come Questa è una stessa età Questo E da lì I Cristiano Kids Hanno aggredito Il Cristiano Kids Ma non sono solo I Cristiano Kids Principalmente I Cristiano Kids Principalmente I Cristiano Kids La statistica Qual è più o meno A livello di 90% Secondo me Sbaglia Chi racconta il calcio In questo modo Che prende Rune Che ha smesso Di giocare Da 3 o 4 anni Che non gliene frega Proprio nulla E si gode la vita E quell'altro Che è lì A dire solo Il più forte Perché fa un gol Da mezzo metro In Arabia Saudita Cioè Io preferisco Rune Tutta la vita Viva gli hamburger Col cheddar E Wayne Rune Abbasso il pollo E l'insalata Di Cristiano Ronaldo Che mossa di marketing Sarebbe aprire ora L'hamburgeria di Rune Ma cosa ho appena sentito Allora io non mi trovo D'accordo con te Nel complesso Cioè È giusto Anzi Hai ragione A dire che non dovremmo Criticare un uomo Così severamente Per la condizione fisica In cui riversa Una volta finita La sua carriera Però io Questa correlazione Con Cristiano Ronaldo Oltre alla foto Side by side Non la concepisco Non l'accetto Più di tanto Scusa Ma allora Quando Cristiano Ronaldo Aveva 60 anni Gli metto la foto Con Al Kogan Quando aveva 60 anni E dice Vabbè che nano Che è Cristiano Ronaldo Che non si vergogna Che Che essere così secco Al Kogan Nella sua età Lo distrugge Cosa c'entra Cioè sono Stronzate Che portano Solo tossicità Nel calcio Bravo Sono stronzate Vorrei cambiare argomento Perché non Però ci voleva Questa precisione Assolutamente Vedremo se tagliarla O meno A me lo pubblico io Lo faremo così Follia Arriviamo però Alla Champions Mamma mia Allora Prima di iniziare Spadone ha detto Una cosa Molto interessante E cioè Io non ho capito niente Di come funziona Questa Champions League Non hai capito niente Non mi sono neanche applicato Perché non mi interessa Assolutamente Va bene Però c'è anche persone Della sua venerata età Che comunque hanno la necessità Di comprendere Certo E come funziona Questo format Ecco bravo Spieghiamo a Spadoni E agli spettatori Che non lo sanno Come funziona Questo Champions League Noi abbiamo fatto Un video a riguardo Nico vai pure Io magari Se c'è qualcosa Si precisa Ecco anche se sbaglio Perché ovviamente Non l'ho fatto io Questa Diciamo fantastica idea Mettiamola così Allora È un campionato Ok Mettiamola al campionato Formato da 36 squadre Quindi ce ne sono Un paio in più Rispetto Alla edizione passata Che erano 32 squadre Se non mi sbaglio Praticamente Ogni squadra Affronterà 8 partite Con Avversari diversi Sempre Quindi non è come Prima che c'erano i gironi Cioè quelle tre squadre Le sfide andare Le sfide a tornare In casa e fuori casa E poi finisce Invece in questo caso No Ci sono 4 fasce Ogni squadra sfida 2 squadre per fascia Prima Seconda Terza E quarta A seconda di come vanno Queste partite Ovviamente ci sarà La classifica classica Del campionato Le fasce Sono state determinate In base alle classifiche Nei campionati Dello scorso anno E anche il ranking UEFA Degli ultimi 5 anni Questi sono i due parametri E praticamente Le squadre che arrivano Nelle prime 8 posizioni Saltano tra virgolette Il vecchio turno Dei playoff Andando direttamente Agli ottavi di finale Cosa che Nelle ultime Champions League Non c'era Il playoff C'era solamente In Europa In Conference League Questa volta È stato reintrodotto E come funziona Le squadre che si trovano Tra il nono E il ventiquattresimo posto Si vanno a sfidare Tra di loro La nona Con la ventiquattresima La decima Con la ventitresima E così via Fino al cento Tra virgolette Chi vince questo scontro Va a affrontare Le squadre Che sono passate Direttamente Agli ottavi di finale Che sono Le prime 8 Formando il classico Tabellone Tennistico Che poi andrà A comporre La classica Champions League È stato perfetto Quello che mi chiedo È questo Su che base Si sono fatte Gli accoppiamenti Le partite Perché non è che Giocano tutte Contro tutte No No Assolutamente Giochi 8 partite Ma Su che base Si sono Praticamente C'è appunto Questa divisione In 4 fasce Sì Questo E praticamente Ci sono 9 squadre Per fascia 36 squadre Tu ne affronti Due Hanno sorteggiato L'unica cosa Non puoi sfidare Altre squadre Del tuo paese In questa fase Questo è un classico Ovviamente Questo in realtà Ha creato delle dinamiche Un pochino complicate Per il sorteggio Eh l'ho visto Che però È un pochino Non lo so Ma ho fatto un po' strano Vedere un sorteggio così Perché è un sorteggio Dettato da algoritmo Non c'è le palline Nesta roba qui Perché ovviamente Ci sono Delle Delle partite Che non si possono disputare Quindi C'è bisogno per forza Di un computer Che decide per te Quali partite Disputeranno Poi Sulla veridicità Di quello che è successo Noi non possiamo verificare Ecco C'è un algoritmo Che tu clicchi E ti dice le partite Quindi Potrebbe anche Essere stato manipolato Però non lo vedo Troppo Anche vedendo Le partite Che affronteranno Le italiane Che analizzeremo D'altronde È il mondo È il mondo Contemporaneo Bisogna fidarsi Di algoritmi Ecco Per dare una quadra A questo video Voglio spiegare Agli spettatori Come si svolgerà Io ho segnato Le avversarie Di tutte e cinque Le squadre italiane Qualificate a questa Champions E noi andremo Squadra per squadra Dunque Bologna Milan Juventus Inter E me ne manca Una Atalanta E Atalanta Guardando le diverse Avversarie Dicendo Che cosa pensiamo Possano fare Alla fine del video Classificheremo Ogni squadra italiana In una di tre categorie Eliminata subito Playoff Qualificata direttamente Per gli ottavi E ci prenderemo Poi la libertà Di dire quello Che ci pare Su tutte le squadre D'accordo Voglio però Prima di iniziare Farvi una domanda Che cosa rappresenta Per voi La Champions League Per me la Champions League È sempre stata La competizione Dei sogni Cioè Dove le cose Fighe Avvengono lì Di base È l'obiettivo di tutti Tutti i club Grandi Che sono nei campionati Hanno spesso Se non l'obiettivo Di vincere lo scudetto Il campionato Quello di arrivare Qualificati in Champions League È un obiettivo sportivo Un obiettivo economico E nella storia La Champions League Ha rappresentato Probabilmente Tra i momenti più belli Della storia del calcio Sono passati Sono passati di lì Poi Questo nuovo format Che Non so quanto mi piace Ho bisogno di vederlo Prima Quindi non riesco A dare un giudizio diretto Anche se ho la sensazione Sia Per l'ennesima volta Più soldi Che calcio Forse Forse Ma questo è un discorso In ogni caso Mi aspetto di divertirmi Anche quest'anno Come noi ci siamo divertiti A vedere Real Madrid Manchester City 3 a 3 Dal vivo allo stadio Ecco Cose del genere Possono succedere Solo in Champions League Spado Ma io che ti vi devo dire Sono cresciuto Con la Coppa dei Campioni Quando c'erano Quella vera Quella che arrivava prima In campionato Giocava la Coppa dei Campioni Quindi ero bambino Vedevo quella roba lì Era molto affascinante Però è chiaro Che quella era Una vera Coppa Che arrivavi prima Andavi lì E giocavi con le prime Però oggi Insomma Il calcio ha bisogno Di altro Ma è bella La Champions League È l'unica cosa Forse Veramente affascinante Del calcio internazionale Perché poi Io sono anche amante Delle piccole squadre Vado a vedere Le piccole cose Mi piace Mi emoziono A vedere il Como Quest'anno Però Però è chiaro Che la Champions League Ti porta La visione del calcio Ad altissimi livelli Questa nuova formula Io Devo dire a Nicola Che Non l'avevo neanche Voluta capire Ora l'ho capita Secondo me Ovviamente perfetta Per quello che è La ricerca del calcio Oggi Ovvero tante partite In televisione Competitive Sì Quindi che portano Interesse Pubblico soldi Però non so Quanto faccia bene Al calcio Come Come Cioè il calcio Lo stiamo confondendo Troppo Col basket Con l'NBA Con altri sport Che hanno Un principio Una natura Un'origine Completamente diversa E uno sviluppo Della passione Fra la gente In maniera diversa Quindi non rischiamo Di accomunare Di rendere Troppo spettacolare Il calcio Che secondo me È uno sport Che ha Un modo Di svilupparsi Tra la gente Diverso Dagli altri sport Il rischio Il rischio Il rischio è di Non fargli bene In futuro Il calcio Ok Ok Troppo spettacolo Vuoi dire Spado Non è Semplicemente Troppo spettacolo Troppo Troppa ricerca Della Super partita Della partita Importante Perché si dice Che se no Le persone Non guardano La televisione Per il calcio Oggettivamente Non è uno sport Secondo me Uno spettacolo Sportivo Molto televisivo Fai fatica A vedere una partita Fino in fondo Se non è Proprio una partita Che ti interessa O la squadra Che ti ifi Eccetera O comunque Un big match Quindi spingere Il calcio In questa direzione Secondo me Poi alla fine Lo va Come si può dire A cambiare Nella sua Nel suo DNA Non so Io sono vecchio Quindi Non ho Chissà quante vite Di fronte Però E quindi Diciamo Probabilmente Vedrò questo calcio Però chissà Quale sarà Il futuro del calcio Se lo vogliamo Spremere così tanto E sovrapporre All'NBA Che è tutta un'altra cosa Io vi risponderò In due fasi Perché La mia domanda Era Cioè L'avete interpretata Come volevate Era molto ampia Però io Io volevo Più un lato sentimentale Però ora Ora ci arrivo Per quanto riguarda Il nuovo format A me non dispiace Perché la fase a gironi Della Champions League Iniziava ad annoiarmi Già da qualche anno Che arrivavi Partite più o meno I risultati Erano quelli Non c'erano incredibili Sorprese Forse non sarà il caso Nemmeno con il nuovo format A campionato Quindi qualcosa per cambiare Mi piace Mentre per me La Champions League Rappresenta Le notti a casa Sul divano Con la famiglia Il cammino acceso Il cano Cane accanto a noi Che possiamo accarezzare Guardiamo le partite È tipo L'evento Infrasettimanale Perché facciamo Baldoria Venerdì Sabato La domenica Si passa Io non Granché in famiglia Perché la mia famiglia Non è molto italiana Però Quindi martedì E mercoledì Champions League Ci mettiamo tutti sul divano A guardare la Champions Quindi è qualcosa Che mi piace particolarmente Sono contento Sia tornata Sono cresciuto Sul ristorante Quindi io non ho mai visto Una partita Di Champions League A casa Anche se Il giorno di chiusura È il mercoledì Quindi Storicamente Serata di Coppa Diciamo Il ricordo bello Che ho Da Champions League È il Milan Di Sacchi Che batte 5-0 Real Madrid Quella secondo me È stata La notte più memorabile Della storica Alcitaliana Che roba Italiano In Champions League La partita perfetta Io ero un bambino Mio padre milanista Lì ho visto Mi ricordo Una serata Che mi emozionò Mi rese fiero Di essere Figlio di un milanista Ecco Vabbè Io Se devo collegare un momento Quella partita L'ho vista Io come sapete Cioè Non è troppissimo tempo Che ho la squadra Da attifare Però Nonostante non ti fassi In quel momento Roma Barcellona 3-0 È Uno dei momenti Più incredibili Una partita Che è entrata Rapidamente Nella storia Ogni tanto Mi ricapita Gli highlights Mi vengono i brividi A vedere gli highlights Di quella partita La Roma Una squadra Sottovalutata Che andava a battere Il miglior Barcellona Di quei anni Neymar Suarez Messi davanti Credo Ci fosse Neymar La cosa incredibile È che sia Il commentatore italiano Sia il commentatore inglese Sono riusciti A raccontare Quel momento In maniera Penso perfetta Penso sia veramente Uno dei momenti A livello di telecronaca Internazionale Migliori Dell'ultimi Dieci anni Veramente È una grande Roma Perché noi Sottovalutati È vero Perché la Roma Non ha grande impatto Nel mondo del calcio Internazionale Ma Era una grande Roma Una grande formazione A rivederla adesso Vengono veramente I brividi Ragazzi C'era Veramente un top team E Cioè A pensarci adesso Si capisce Perché facesse così bene In quel periodo Con quella Con il grande Lo sai Incredibile Quindi è la cosa incredibile Cioè Veramente Guardate Per Di Francesco Quella semifinale Arrivare a quella semifinale Di Champions È paragonabile All'Eister di Ranieri Per lui Per il contesto Perché Di Francesco È un allenatore Scarso Non lo so Non lo so Sfortunato anche Sfortunato E anche un po' Masochista Perché ballena Sempre le squadre E Pepe Dice Quest'anno voglio Retroscenere Avete condiviso I vostri momenti Migliori Se devo Selezionare Una partita Io non toglierò Mai dalla mia testa Barcellona Paris Saint Germain 6 a 1 Al Camp Nou Io però In senso negativo È in senso negativo Io ti favo Paris Quella sera E sono stati Derubati E sono stati derubati Proprio a mano armata Questo è un discorso Che voglia Dopo lo possiamo affrontare Di come Calcio europeo Da chi viene Chi sono i burattinai Perché questo è un po' Limita forse il fascino Di questa manifestazione Vero Ok Ultima domanda Prima di buttarci nel format Però questo è veramente Io ero bambino Vedi anche Finale Roma Liverpool Perza rigori Con Grobel La rimporta nel live Però piccolino Con la maglia della Roma Perché il mio c'è della Roma E vedi perdere Piccolino Classico Per poi vedere perdere In finale con l'Inter Per poi vedere Vabbè Lasciamo perdere Ok Prima di arrivare Al dunque E direi che sarebbe Il momento di arrivarci Avete visto la pubblicità Di Sky Per Per pubblicizzare La Champions Con le navi dei pirati Non vederla La mettono La mettono ovunque Anche prima degli Highlights della serie A Incredibile È vero Ma Sono l'unico A pensare Che non siano i calciatori Quelli Cioè Quello è una controfigura Di Lautaro È una controfigura Di Vlaovic È il bro Di Vlac È lui Io ne sono certo Non sono i calciatori No Tipo Vlaovic È Vlaovic No Io non penso Che sia lui Ho qualche dubbio Sì Sono Io non ne sono convinto Non ne Gli hanno fatto Manca Se davvero Quell'autaro Lì Ci mancava Davvero Non gioca più C'era 7 Ci mancava C'era Spera Però dicono Che c'era Spera Campi di quello Sì Assolutamente Follia Quindi io vi invito La prossima volta Che vi appare A guardarla Attentamente Guardarla negli occhi Perché io ho qualche Tipo Lautaro Mi sembra troppo Paffuto Ad esempio E Vlaovic La faccia Ma esiste Il socio di Vlaovic Non lo conosco Forse ora Sì Forse ora Comunque Arriviamo All'idea Della puntata Di oggi Parliamo Di Champions League Parliamo Delle 5 italiane Sono pronto Ad elencarvele Vorrei partire Da Il percorso Il sistema Che vorrei seguire Dal quinto posto Nella Serie A Dello scorso anno Quindi Chi è arrivato quinto In Serie A L'anno scorso E Bologna Io adesso Sono pronto A leggervi Le squadre Che sfideranno Sono 8 Giocheranno Con lo Shakhtar In casa Con Liverpool In trasferta Andranno poi A giocare Ad Aston Villa In trasferta Monaco In casa Lille In casa Benfica In trasferta Dortmund In casa E Sporting Fuori Questo Bologna Ci ha fatto sognare L'anno scorso Ci hanno regalato Calcio Ma se Le prime tre giornate Di Serie A Ci hanno detto qualcosa È che in Champions Faranno una figuraccia Io non sono d'accordo Io non sono d'accordo Perché Italiano Per me È un allenatore Simpatico Che mi sta Simpatico Però Al contempo Io lo trovo Molto limitato E limitante Sotto tanti punti di vista Però sì In Coppa è bravo Però Il format è campionato Questo è Quello il problema La cosa che mi spaventa È che il format è campionato Partire testa a testa Cioè In questa Champions Ogni singolo gol Conta Perché il primo parametro Con tutti gli scontri diretti Che è difficile ci siano Visto che non affronti Tutte le squadre Che sono presenti È la differenza Riti Quindi Non lo so Non lo so Veramente Paradossalmente però Farà schifo un campionato La Bologna Probabilmente Perché secondo me Le prime 3-4 giornate Non contano nulla Però può fare bene In Coppa Perché se il Bologna Riesce a arrivare Ai playoff Per lo meno Secondo me Può essere una delle sorprese Di questa Champions Arrivare tipo ai quarti Io credo che ti sbagli di grosso Io leggendo questa lista Forse sono Tre Le squadre con cui possono giocarsela Shakhtar in casa Monaco in casa Lilli in casa Tutte le altre le perdono Cioè Non vanno a battere il Liverpool L'Aston Villa Il Benfica Il Dortmund Lo Sporting Lo Sporting Secondo me Io penso che Ma in Portogallo Io penso che Giocares Tiene pianti due E buonanotte Giocares Nelle prime otto partite Ha fatto 11 gol E 5 assist Pazzesco Mamma mia Pazzesco che non sia andato Ad un'altra squadra Quest'estate Lo volevano tanti Però costava Perché i giocatori Che giocano in Portogallo Per qualche strano motivo O li paghi 100 milioni di euro O non li puoi prendere Ma questo sembra forte davvero Eh sì Io lo dichiarai anche Un anno e mezzo fa In una live Con un amico Che secondo me Era l'attaccante emergente Più forte In Europa È lui Il Bologna Il problema però Ragazzi Andiamo a valutare A fondo la situazione Non è Italiano Non è italiano Per me L'italiano È un ottimo allenatore Uno dei migliori Sulla piazza In Italia Un grande allenatore A Firenze Lo rimpiangeranno Vabbè Il problema di Bologna È il progetto Cioè Questi vanno In Champions League Storicamente Un miracolo Per questa società E poi cosa fanno Bendono tutti più forti Fanno un mercato Da squadra di Medio-bassa Classifica in Italia Non hanno nessuno È una squadra In debolita In debolita Totalmente E rischi grosso Perché lì c'è da fare Il campionato A Champions Anche se poi La Champions Non la fai Con l'ambizione Di nulla La fai giusto Per vivertela Quasi una cosa decorativa Quando dici Io mi vado Vado a fare Baccaio Quella figa Bellissima Non me la darà mai Ma mi voglio godere Il momento In cui la baccaio Anzi Chiede a Remy Nascosti dietro Una siepe Di farti Una foto Mentre ci parli Si gode Il momento E si specchierà In questa roba Ci sarà l'amico Del cuore Che gli fa la foto Però non conta nulla Ma il problema È il progetto Tu devi andare lì E essere Vestito bene Con la camicina Con il cosino Con il cosino Fazzoletto nel taschino No Fazzoletto nel taschino Il profumo giusto Papillon Cioè ti devi preparare La scarpa giusta L'orologino Cioè Per giocarti Quella partita lì Devi andare Preparato Non puoi andarci Come ha fatto il Bologna Che ha venuto i migliori È una squadra Che farà fatica Giocherà Otto partiti Di Champions Minimo E ti va a salvarsi In campionato Io la vedo Molto dura Per il Bologna Una stagione Difficilissima Poi Però dobbiamo pensare Il Bologna Come società Ha già fatto qualcosa Di grandioso Tornare in Champions League E loro adesso Hanno sfruttato Un'opportunità Per costruirsi Forse meglio In futuro Non hanno fatto Un bel mercato Hai ragione Però hanno venduto Hanno incassato 200 milioni Hanno fatto 200 Hanno fatto No Ho tirato a caso Calafiori Zirgze Su 100 milioni Più i soldi Da Champions Perché no? Purtroppo no Perché su entrambi i calciatori Sia Zirgze Che Calafiori Avevano quasi il 50% Sì dovevano dare i soldi Dovevano dare i soldi Agli altri Quindi tipo Sui 50 milioni di Calafiori Ne hanno presi 25 26 Il Basilea Il Baile al Monaco Vabbè comunque Sono tanti soldi Per il Bologna Sono tanti soldi Più hanno presi soldi L'accesso In Champions Un centinaio di milioni Con la Champions League Penso che siano Riusciti ad ottenere Però Secondo me I cassi saranno Alle stelle Ora col senno di poi È facile dire Che è stato un grande mercato Quello dello scorso anno Del Bologna Però è stato Un mercato Come quello dell'anno scorso E c'è una cosa Che mi fa credere Nei giocatori Che ha preso il Bologna Per quanto A livello di nomi Non siano grandi Io Credo tantissimo Nel loro direttore sportivo Sartori Sartori è un uomo Che ha portato Il Chievo In Champions League Ha portato l'Atalanta In Champions League E ha portato il Bologna In Champions League Quell'uomo di calcio Ne capisce Ne capisce veramente tanto Quindi se lui mi dice Che quei giocatori Che ha preso Sono buoni Io mi fido Perlomeno gli do l'opportunità Di farmi vedere Di cosa sono capaci Poi dipende tanto Anche da italiano Ovviamente Sono buoni Però ragazzi Doppio impegno così Rischi di farti male Di arrivare Quindicesimo in campionato Mi ricorda Una storia Che mi ha sempre Raccontato Mipà Mipà Tifoso di una squadra Francese Adesso di Ligan L'Oxerre L'Oxerre Negli anni Novanta Era una squadra Che giocava Ad alti livelli E mi racconta sempre Che furono sorteggiati In un girone Di Champions O Coppa dei Campioni Con Real Madrid E Milan Praticamente Spesero tutte le loro forze Per giocare Quelle partite Con queste grandi squadre E quell'anno Retrocessero È difficile Sarebbe incredibile Se ci fosse una cosa del genere Bologna forse no Perché Però Per me fa grande fatica Quest'anno Italiano Lo vedo Cioè Deve giocare Una stagione Difficilissima Il Bologna Il Bologna Farà sicuramente Peggio Dello scorso anno Il Bologna Potrebbe non finire Nelle prime dieci E ciò non sarebbe Troppo male Io Non vorrei Criticare Bologna Per le scelte Che hanno fatto Quest'estate Hanno avuto Un allenatore Che ha fatto Qualcosa di grandissimo E che giustamente Ha accettato Un'opportunità Che gli si è presentata Quando mai ti ricapita Di andare ad allenare La squadra più grande D'Italia La Juventus Hanno venduto I giocatori Che gli avevano fatto Particolarmente bene Incassando Forse non tanto Quanto avrebbero voluto Come ci hai spiegato tu Ma comunque Somme importanti E quest'anno Io spero Si possano godere Il percorso In Champions League Il più possibile E che in campionato Si facciano rispettare Penso che si salveranno Agilmente Ci sono squadre Che in Serie A Secondo me Sono molto peggiori Di loro Sì Però Poi vai a Champions League Vai a Liverpool Ti prende una pallonata Cioè Devi Secondo me Potevano fare Un ragionamento Più equilibrato Con qualche acquisto Più di esperienza Con un percorso Più Anche per Per essere anche Dare ai tifosi Ancora un po' Di quel Di quel sapore Dell'impresa Dell'anno scorso Mi che deve arrivare Quinto Però Stai nelle prime 7-8 La vedo difficile Per Bologna Sia in campionato Sia in Champions League Quando vai a Liverpool Quando giochi contro il Borussia Dovortmund La Stonvilla La Stonvilla È difficile Sporting Sono difficili Sono partite difficili Ma anche lo Schattar Donets È difficile per il Bologna Perché La prima in casa Potrebbe essere interessante Avranno Quel fuoco dentro Bravo Però lo Schattar Tutti gli anni C'è in coppia C'è sempre È una squadra tosta Dunque Proviamo a classificare Il Bologna In una delle tre categorie Che vi ho elencato Eliminata Eliminata Ventiquattresima Che vai a playoff Ok E io dico Eliminata Adesso passiamo quindi Alla seconda squadra Italiana Di cui vogliamo parlare I rossoneri Il Milan Il Milan Giocherà Contro Liverpool in casa Che bello Milan-Liverpool Come prima partita Liverpool Adesso ci arriviamo Bayer-Leverkusen In trasferta Club Bruges In casa Real Madrid In trasferta Slovan-Bratislava In trasferta Stella Rossa In casa Girone in casa E Dinamo Zagabria Il Milan In base a queste partite Potrebbe Ambire almeno I playoff Anzi Dovrebbe Ambire ai playoff Alla fine Ok C'ha squadre Grossotte Liverpool-Leverkusen E Real Madrid Tutte le altre squadre Se gira bene Il Milan Come dovrebbe E come speriamo Inizia a girare Il signor Fonseca Le asfalta Le distrugge tutte Perché Parliamoci chiaro Il Bruges Lo devi battere Bratislava La stella rossa Lì devi battere Nonostante i precedenti Con la stella rossa Che sono molto simpatici Con quei 500 rigori Che tirarono Non so se vi ricordate Il Girona Si è demolito È un stile Bologna Nel senso Bravo Il ragionamento Ottimo paragone È veramente simile E vabbè Dinamo Zagabria Cioè Sono tutte squadre Molto 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 inferiore Rispetto al Milan Cosa volevi dire Sul Liverpool Però sono trasferti difficili Cosa volevi dire Sul Liverpool Quest'anno non mi convince Sarà che non c'è Klopp Sarà che li vedo Incompleti Perché pensi questo? Sarà che hanno preso Chiesa Quindi chi prende Chiesa Non capisce di calcio Però Il Liverpool Non lo vedo Ho visto una partita In campionato L'ultima Vedo una squadra Non a posto Ha 3-4 giocatori Di livello Top Che sono Sly Lucio Diaz Gli storici Salavandi Ma io lo chiamo Lucio Diaz Perché in Colombia Lo chiamano così Lucio Diaz Ragazzi secondo me Però E io Lucio Diaz Lucio Diaz Non lo amavo L'ho visto giocare La Coppa America Sono rimasto Abbagliato Un fuoriclasse Ma Qui si parla di Vinicius Che è inguardabile Luiz Diaz È 3-Vinicius Ecco Se guardi 90 minuti Di questo ragazzo Non lo vede neanche È incisivo Cattivo Veloce Bravo Tecnico Fa tutto Quindi Secondo me Un giocatore così Fa la differenza Come Sarà E come gli altri Ma il Liverpool Non è a posto Gioco Iota davanti È fragilino Nunez Un po' sconclusionato Andrea Secondo me Ti stai precipitando A giudicarli Dopo L'unica partita Che hai visto loro Di questo inizio di stagione Col Nottingham Forest È vero Hanno perso Hanno perso a Danfield Un grande shock Nessuno Sulla si abbia aspettato Ma Se no Hanno fatto 3-3 E non avevano ancora subito gol Quindi Non mi piace Io mi affretterei Prima di dare un giudizio Così severo Sul Liverpool Però quello che dici Su Luis Diaz Chiesa fa la tribuna Se fa la tribuna Forse hanno speranza Ma sì Chiesa è il panchinaro Non ci piove Luis Diaz È tre volte Chiesa Non direi che Tre volte Chiesa È tre volte Otto volte Chiesa Ok È tre volte Vinicius No È tre volte Vinicius Però Però È un bellissimo giocatore Luis Diaz Il Liverpool Secondo me farà bene Nel senso Non è che farà Una stagione Non farà una stagione mediocre Però effettivamente Il Liverpool si trova Un pochino a fine ciclo La maggioranza Dei campioni Che ha elencato Tipo vabbè I vari Van Dijk Allison Salah Sono tutti E dico tutti In scadenza di contratto Quindi nel 2025 Teoricamente Dovrebbero separarsi Dal Liverpool E abbiamo due vie In questo caso O si sono stancati E non riusciranno A dare quanto dovrebbe Il loro nome Quanto dovrebbe sorreggere Il loro nome A livello di aspettative Oppure faranno La stagione della vita Queste sono Un pochino Le due opzioni Sono in un momento Di cambio generazionale Bisogna anche vedere Come farà Slot Che Lo conosco meglio Di tutti voi Probabilmente Perché la Roma Ha affrontato solo Il Feyenoord Negli ultimi anni E l'allenatore Del Feyenoord È un allenatore interessante Che ha delle belle idee Vediamo Secondo me È una bella incognita Però o bene bene O male male Non ci sarà una via di mezzo Io credo che arrivi Non nelle prime otto Sì Io pensavo che L'anno scorso Vincesse la Premier Il Liverpool Quest'anno Sì Comunque Le prime otto Ci deve provare Perlomeno Il Liverpool Sicuramente Il Milan La dura La prima subito Il Milan In confusione Contro il Liverpool Diventa una partita difficile Bravo Torniamo a parlare Di Milan Milan Che Prime giornate Di campionato Ha preoccupato Non poco I rossoneri Che già alcuni Parlavano Parlavano di Rivolere Pioli Sulla panca Però Una cosa che io Non capisco del Milan E vi ho dedicato Una storia A riguardo Noi conoscevamo Le debolezze Del Milan Ancora prima Che il campionato Iniziasse Eppure È iniziato E non sono riusciti A tapparle Cioè Avevamo Temevamo Che il Milan Potesse essere Troppo sbilanciato In avanti Ed è troppo Sbilanciato In avanti Lasciamo stare Che ora hanno battuto Il Venezia 4-0 Wow Il Venezia Una squadretta Si è fatto tre gol Da solo Ok esatto I partenino rosa Ioronen Ci ha messo Il suo Poi Venezia Come hai detto te Di Francesco Un allenatore Un po' Come si dice No è un visionario Sì sì vabbè Secondo me è un visionario Perché lui allena sempre La squadra più debole E gioca come Zeman Ecco ecco È il numero uno È un vasochista Perché prova a giocare bene Con una squadra Che non è in grado Forse di giocare bene Quindi rischia Di prendere tanti gol Esatto Quindi non lasciamoci Abbagliare Da un 4-0 Contro il Venezia Non vuol dire niente Per me il Milan Rimane una squadra In grande confusione Il Milan È in grande confusione Io Ve l'avevo detto Prima inizio del campionato Ma non per l'allenatore Perché tutti attaccano Fonseca Fonseca è lì Potrebbe fare anche Un buon lavoro Secondo me Non è stata costruita Una squadra In maniera equilibrata Corretta Lui ovviamente Probabilmente Fonseca si è visto Anche da queste crepe Che ci sono Nell'ambiente Non è protetto Dall'ambiente E quando è così È molto dura I giocatori Ce li ha Non mi fa impazzire Però per passare In Champions E arrivare A playoff Sembra banale Ma c'è da correre Un Milan così Farà molta fatica Prima però Di giudicare E dire Dove Metteremo il Milan In una delle tre fasce Questo fine settimana Giocano con l'Inter Vogliamo fare Un pronostico rapido Del derby Di questo fine settimana Il derby Ho un'idea Controcorrente Ovvero Che vince il Milan No Aspettate ragazzi Dobbiamo fare per bene Questa cosa Vince il Milan Per bene Pronostico Derby della Madonnina Inter Milan Ecco Vince il Milan Vince il Milan Con un gol clamoroso Di un giocatore Che odi Nuovo Ah nuovo Di un giocatore Diverso Da quelli soliti Del Milan Farà gol No eh Chi? Non Dammi Farà gol Il grande Dammi Abram E Cambierà le sorti Del derby Sono sicuro Sicuro me lo sento Di testa Dammi Di testa Viste le debolezze Del Milan Io credo che l'Inter Sarà in grado Di usarle al massimo Inter squadra finita Temo Temo Un'altra goleada Stile lo scorso anno Temo un'altra goleada 3 a 2 Con gol di Abram A chiusura Il mio pronostico È 2 a 0 Inter L'Inter Non ha ancora Possibilità Di vincere Questo derby Il Milan E gli faccio I miei più sentiti Complimenti Vincerà 4 a 0 Con Triplette Di Tammi Abram E gol di Raffaleao Per il mio pantacalcio Andrà così sicuramente Fantastico Mentre in Champions League Il Milan Dove li mettiamo? Milan In confusione Squadra un po' Incompleta La dura Io lo metto Nei playoff Però C'è da correre C'è da correre Il Milan Complimenti Arriverà Non tra le prime 8 Ma tra le prime 4 Di questa fase Gironi Della Champions League Sto notando un pattern Nei tuoi giudizi Sul Milan Nicola Dal pronostico Di inizio anno A quello che hai appena detto Sul derby E questo No io sono d'accordo Con Andrea Metto il Milan Nei playoff Forse un Proprio nel mezzo Dodicesimo posto Circa E ci sarà E ci sarà Da giocare Nel mezzo 18 C'è da correre Ma è mezzo alto Allora Dodicesimo posto Circa Per il Milan Ma c'è da correre Perché non pensate Che si va lì A Stella Rossa E si vince No hai ragione A Champions Non è questo Sono partite complicate Poi spesso Quelle partite lì Ce le vanno in trasferta E appunto Vi citavo prima La partita con la Stella Rossa In Europa League Poi ora Se ho capito Stella Rossa È in casa Ragazzi Bene la formula Si ho capito bene La formula E C'è da giocarsene tutte Da 0 a 0 Si riparte da 0 C'è da fare più punti possibili Certo Più gol possibili Per il Milan Il meno possibile Per il Milan Cioè quando c'hai da vincere Cioè quando c'hai la squadretta Ti sei obbligato a vincere 4-5-0 Pensi che ce la fai a vincere con la Stella Rossa È quella la domanda Che ti devi porre Però sei obbligato a farlo Perché se poi tu Cosa probabile Ti ritrovi a pari punti con qualcuno Quel gol che non hai fatto Con la squadretta Sei fuori dalla Champions League Non è che scendi in Europa League Questa cosa ne abbiamo detta Non c'è la discesa Non c'è Tu non è che dalla Champions Poi vai in Europa League No sei fuori Ecco di questo sono contento Anche io Questa regolaccia Dove le squadre eliminate dalla Champions Andavano a giocarsi l'Europa League Siviglia quante volte ha fatto sto gioino E l'ha vinta E l'ha vinta proprio così Aveva proprio rotto le scatole Quindi due playoff Una prime quattro Passiamo alla prossima italiana Ed è la Dea L'Atalanta di Gasperini Bella Con pinocca Giusto giusto Devo elencarvi con chi gioca L'Atalanta giocherà con Appena mi si apre A parte che ve l'ho mandato Se non dovesse Ok Atalanta Arsenal in casa Shakhtar in trasferta Celtic in casa Stuttgart in trasferta Young Boys in trasferta Real Madrid in casa Sturm Graz In casa E Barcellona In trasferta Quindi sfida Arsenal Real Madrid E Barcellona Uno dei calendari più difficili Forse È dovuto alle loro fasce Assolutamente Credo Per me il Bologna Fino a questo momento Ha avuto Gli avversari più complicati Praticamente ogni partita Per il Bologna Sarà una partita Da dentro fuori Milan La fascia più alta Sarà più facile L'Atalanta Non è Non gli è andata molto bene No Eppure credo che L'Atalanta sia stata In prima fascia Essendo che ha vinto L'Europa League È prima fascia Sì sì Sono molto sicuro Di questa cosa Oddio Vuol dire che hanno pescato Chi hanno pescato Real Madrid E Arsenal Dalla prima fascia E Real Madrid E Barcellona Dalla seconda Eh ci sta Ci sta Tuttavia Io a prescindere Dall'avversario Io l'Atalanta Non la sottovaluto più Questa è una squadra Forte Una squadra Che se la può giocare Con chiunque In qualsiasi momento Gasper è un grande allenatore Fa giocare la sua squadra In un certo modo A volte non è efficace Come contro l'Inter Ma spesso lo è Quindi io Non credo che l'Atalanta Dovrebbe avere paura Alcuna Di andare a giocare Con le big Arsenal Contro Real Madrid E contro Barcellona Non devono aver paura Per precisazione L'Atalanta Era in seconda fascia Ho detto Una fasciolata Scusatemi Comunque L'Atalanta Sì E non va mai sottovalutata Non va mai sottovalutata Però io ho la sensazione Tutte le volte Che ci si aspetta qualcosa Dalla Dea Deludono sempre Cioè Loro sono una squadra Che sorprende E fa bene Solo quando Deve sorprendere Non quando deve Confermare E dimostrare qualcosa C'è anche da dire Che costruendo 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 In questo momento Hanno dei giocatori Veramente interessanti Riteghi Gli stanno arrivando 500 palloni Per quanto sia Un ciabattaro Sta segnando Forte Mi ha sorpreso Riteghi Un anno dopo la finale Di Europa League Veramente Ha fatto una partita Clamorosa Ha sprecato molto Nel secondo tempo Però è veramente Forte Ho giocato una partita Pazzesca Sì La Fiorentina Lasciamo perdere Sì La Fiorentina è Quello che è Però effettivamente L'Atalanta Io ho visto Proprio la partita Con la Fiorentina Tutta Bello Primo tempo Pazzesca Secondo me Deve ancora un po' Più di esperienza Sistemare Questa nuova squadra Sì Ci sono delle cose Da correggere Però Fra un mese Io penso Che l'Atalanta Sia il top E penso Si giocherà il campionato E farà bene In Champions League Non bene Non vuol dire Vincerlo Ok Però farà Farà il suo La vedo Nel playoff Tranquillamente E È una bella squadra Reteghi Ragazzi Io non pensavo Con questo gioco qui Che gli arriva nei cross Di testa La butta sempre dentro Sì sì Lukman è forte La squadra è tosta Per me se la gioca Vale playoff Tranquillamente Poi Hanno tante opzioni Perché hanno speso sul mercato Questi ultimi due anni Sono andati a comprare I rinforzi Oltre alla punta Che va bene Adesso è Reteghi Ma deve tornare Scamacca Prima o poi C'hai Lukman De Chetelare Samar Zagnolo Brescianini Cioè Quanta scelta Che ha a disposizione Ederson è un bel giocatore Quanta scelta Che ha a disposizione L'unico reparto In cui peccano E infatti Nelle prime tre di campionato Anche quattro Hanno sofferto Questa mancanza In difesa Hanno avuto diversi infortuni Ian Colassinac E ne hanno immediatamente risentito Scalvini Scalvini è rotto da tempo Facendo arretrare Deron Ma quando Quando tornano Questi giocatori L'Atalanta Ha anche una rosa completa Non da andare A vincere Chiaramente Ma da fare Bella figura Tanto in Champions Come Come in campionato C'è qualcuno Che mi ha detto Che con gli impegni Di Champions Sarà Sarà troppo Per loro Però l'anno scorso Sono arrivati in finale Di Europa League Alla fine Le partite che hanno giocato Sono quelle Sono la stessa quantità Se non di più Perché l'Europa League Non gioca di più Tipicamente Quindi si hanno dimostrato Di poter sopportarlo L'anno scorso Perché non quest'anno Anzi da ultimo Secondo me L'impegna di più Perché volevano Provare a vincere Quindi nella testa C'era quella roba là No io penso Facciano bene In playoff Ci può andare tranquillamente Playoff 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 Ora con l'Arsena subito In questo momento Qui della stagione Rischia anche di perdere La male Però secondo me Sarà veramente Una delle partite Più belle Che vedremo Poi sarà Nello stadio Completamente rinnovato Tra l'altro Quanto è bello Il nuovo stadio Dell'Atalanta Signori sponsor Quando ci invitate A vedere Atalanta Arsenal Sai che ci ho giocato Allo stadio di Bergamo Hai giocato al Gavis Prima che si chiamasse così Prima che si chiamasse Si chiamava Non mi guardare Non ne ho idea Aveva un altro nome Non mi viene Vabbè Io ho giocato a Bergamo Carino Ho fatto alcun assist Ma non giocavi portiere No Perché era già il periodo Che ero vicepresidente Della squadra Della nazionale italiana Grande fratello La prima mossa di mercato Che ero a tre anni Giocavo a Porto Non ho più voglia Quindi io giocavo In panchina Mi misi da solo in panchina Entrai l'ultima mezz'ora E feci un assist Con un lancio di 30 metri Come al solito Che qualità Come al solito C'è anche un video Che ve lo farò vedere Fantastico Bene Passiamo Alla penultima squadra italiana Di cui vogliamo parlare Ovvero La Juventus La Juve sfida PSV in casa Lipsia fuori Stoccarda in casa Lille fuori Aston Villa fuori Manchester City in casa Bruges fuori E Benfica in casa Secondo me Hanno un calendario Piuttosto abbordabile Sì La Juve è un progetto Anche in costruzione Secondo me Loro hanno la testa Al campionato Vogliono vincere il campionato La Juve quest'anno Vogliono vincere il campionato Non ha altre idee Quindi Può arrivare Nelle prime otto Senza volare troppo alto Quando abbiamo fatto Il nostro video Previsione della Serie A Hai messo la Juve prima E dopo queste quattro giornate Ne sei sempre convinto? La Juve arriva prima La Juve arriva prima Con sette punti di scarto Sulla seconda Per non sarà l'Inter D'accordo D'accordo In Champions League Invece come vediamo Questo nuovo gruppo Perché È veramente una squadra Rivoluzionata Squadra diversa L'abbiamo visto contro l'Empoli Hanno pareggiato 0-0 Ma questo è un risultato Ragazzi l'Empoli Non ha ancora perso una partita È un risultato da scartare Gli Juventini Che si preoccupano Per il pareggio a Empoli Secondo me Non ci stanno con la testa Qui non c'è niente Di cui aver paura Ci sono risvegliate Le vedove di Allegri Ecco bravo E quella di Allegri Che non segna 0-0 Vlaovic In realtà Se si guarda la partita Si vede che la squadra Ancora è un cantiere È la prima partita Che già avevano tutti quelli nuovi L'ho visti tutti un po' Fermi Spaisati Io credo che la Juve Farà una grande stagione Grande stagione vuol dire Vince il campionato E poi il resto Quello che viene viene A me sta piacendo tanto Quello che sta provando A fare Motta Ricordiamoci che Ok Questi due 0-0 Consecutivi Ma la Juventus È l'unica squadra in Europa In questo momento Che non ha ancora subito gol Pazzesco sto dato Vestiando pochissimo Sì sì Nessuno va vicino A fargli gol Non è che non ha subito gol Per fortuna O tiri Che sono andati fuori O traverse No no Assolutamente no Non c'è proprio Expected goal 0-0-0 Il primo test Della Juventus È questa domenica Col Napoli Che bella partita Sarà Non so se sarà Una bella partita Intensa Maschia Alla pari Vedremo poi Chi la porta a casa Non vedo l'ora E mi prenderò un minuto Per parlare Del Napoli No ma scusate Parla del Napoli E poi facciamo il pronostico Sì sì Facciamo il pronostico Un minuto per parlare Del Napoli Che ha approfittato Del pareggio Della Juventus Del pareggio dell'Inter Vincendone tre di fila Subendo un solo gol E questi sono In cima alla classifica La partita col Cagliari È finita 4-0 Ma il risultato è bugiardo Il risultato è bugiardo Mamma mia Perché hanno subito Una roba come 19 tiri E Merez si è superato Ma Lo sai bene Io voglio Sì lo so bene Perché ho 7 e mezzo Più 1 8 e mezzo al Fanta Lasciamo stare Ho goduto come un maiale Ma Questo a parte Io voglio Voglio dire qualcosa di positivo Su Antonio Conte Perché io Mi sono rotto Degli allenatori Che vogliono Tenere il possesso del pallone Giusto per Giusto per il gusto di farlo Giusto per Insomma Boostare quelle statistiche E avere il 65% Possesso palla Le squadre di Conte Sono da sempre Pragmatiche Si fa Il minimo indispensabile A livello di gioco Complesso Ma bisogna puntare dritto E infatti I gol arrivano Guarda Il Napoli L'ho visto male Col Cagliari Vi dico la verità Era un po' Dietro Ragazzi Malissimo Però 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 Poi Quando si è rimesso a posto Ho visto bene Lukaku Ha un bel lavoro Spalla la porta Fa un grande lavoro Anche se è un po' lento Però ha visto come Tiene palla E poi C'ha il giocatore Più forte del mondo In campo Che cambia Le dinamiche di ogni partita Bisogna iniziare ad ammetterlo Ora Sei meglio del mondo Non lo so Bisogna iniziare ad ammettere Che Valaschelia È L'uomo Che cambia completamente La squadra Quando è in palla Spaccando le partite È un giocatore speciale A me piace moltissimo L'accoppiata Con Lukaku davanti Con Neres Meglio Meglio che Non si man È presto per dirlo Però No ma lascia perdere Secondo me Tatticamente è meglio Poi I numeri Non lo so Però Lukaku Sta lì Spalle larghe Botte E apre gli spazi Quell'altro Si buttava dentro Anche lui Esatto Perché Tosimena Essendo un giocatore Più di profondità Tenendo meno il pallone Arrivava meno roba Chi sta intorno Alla fare il devasto Quest'anno Se tutto va come deve andare Esatto Se va tutto come deve andare Se Lukaku sta bene Anche fisicamente Che negli ultimi due annetti Non è stato sempre al top Ciccola Può anche fare 20 gol Il campionato 20 tanti Ma 15 sì 15 15 sì Sarebbe tanta roba 15 sì Ma poi più che altro Ti fa 10 assist Ti apre Che poi anche se non fai assist Che vanno a tabellino Apri il campo Ah per il campo Perché tante volte Conta anche più quello Che l'assist Più la palla Che viene mandata Per fare l'assist E Napoli L'ho visto male Però Non tanto Cioè Si deve un po' Cioè Si deve mettere a posto Il Napoli Adesso Adesso Torniamo a parlare Della Juve Soffermiamoci Un secondino Sulla partita Con la Juventus Io credo che Conte Farà Alla Juve Quello che L'Empoli Ha fatto Alla Juve Ovvero Li conterrà Li farà Avere la palla Però Occhio Napoli Contropiede Penso Possa essere Micidiale Secondo me Pronostico 1-1 Poi Neres Quando entra in palla Gli dà Gli dà Una spinta Ragazzi Neres Ha fatto Tre assist In 40 mesi Fenomenale Tecnicamente È delizioso È proprio delizioso Poi è tipo È proprio il tipo Di giocatore Che a Lukaku Piace avere intorno A mio avviso Sì Perché Bara è più da guerra Visto com'è lui Con Conte Quest'anno Torna Si picchia Perde palla Va dietro La recupera Quell'altro Sta lì E ti fa la giocata E ti risolve la partita E bravo Neres Poi c'entrano tutti i difensori Sulla minaccia a Lukaku Guarda che spazio Sai L'anno scorso Poi ieri l'ho visto bene Lukaku Non c'è niente a fare Goal e due assist No ma poi Quando il Napoli Era in grande difficoltà Buttavano sempre La palla A diritto a Lukaku Dalla difesa La palla La buttavano sempre a Lukaku Oh Rimaneva lì eh Non c'è bene Fenomenale Fenomenale Valla a spostare Lukaku Quando è piazzato Davanti alla palla Torniamo a parlare di Juventus Come fanno in Champions League Come li classifichiamo Per me la Juve arriva Tra le prime otto Sì la Juve arriva Tra le prime otto Senza volare alto Come ho detto Perché secondo me Sotto sotto Poi le società Lo sapete Che poi si pongono gli obiettivi L'obiettivo è il campionato Quindi La Champions ok Però secondo me Non vogliono spremersi troppo Per Per Diciamo poi pagando Le consuenze in campionato Però tra le prime otto È dovere arrivarci Sono d'accordo Prime otto Per la Juve Ma lo vedo più Un settimo Ottavo posto Quindi proprio Proprio lì al limite Poi abbiamo visto Il calendario favorevole È una bella squadra Con tanti talenti Quindi io penso Ce la possano fare L'ultima squadra Di cui dobbiamo parlare È Campione d'Italia L'Inter Che sfiderà Il Manchester City In trasferta Lo Stella Rossa In casa Lo Young Boys In trasferta L'Arsenal In casa Quindi le prime due Della Premier sfidano L'Ipsi In casa L'Everkusen In trasferta Praga In trasferta E Monaco In casa Allora Io vedendo questi nomi Credo che abbiano Un calendario più difficile Della Juve Sì sì assolutamente Mi sembra di sì Perché Sottoste Manchester City Arsenal L'Ipsi L'Everkusen Non sono partite facili No Oserei dire Difficilissime L'Ipsi Non lo so Però L'Ipsi è un po' forte È una buona squadra Però Credo che la Juve riesca No l'Inter Si parla di Inter Ah scusatemi l'Inter Perdonatemi Ma io Mi odieranno tutti I tifosi Ho scatenato una faida Con questa Comunque Boh Non lo so Non mi piace tanto Queste partite Ho visto quasi tutte Per l'Inter Ho visto Del Rimembranzo Dell'anno scorso Però ho visto Avete presente Quando giovate Al bigliardino Che gli manca l'olio Ecco Questa è la sensazione Che ho avuto sull'Inter Ecco Macchinosi Ma l'hai pensato Dopo il pareggio di ieri Tutte le partite Tutte le partite Con l'Atalanta Erano forti Vabbè Ok Quello è un po' Un'eccezione Però le altre Un po' Scricchiolanti Ok Ok Batte la 34-0 In casa Ormai è un must Per l'Inter Io credo che l'Inter Sia una squadra Veramente forte Con un'idea di gioco Definita Ormai da anni I giocatori sanno Quali sono i loro compiti E che L'unica cosa Che manchi In questo momento All'Inter Per dominare Come lo scorso anno È Lautaro Che non va in gol Da parecchio tempo Ma tanto torna Perché i grandi attaccanti Tornano a segnare E io credo che Appena lo farà L'Inter Tornerà a dominare In campionato E in Champions Sarà difficile Da battere per tutti Io come ho già detto In altre occasioni Considero L'Inter Un po' Una squadra Sopravalutata Nel senso che È una squadra forte Strutturata Come volete Però È già due anni Che dicono Eh l'Inter Vince tutto Ora vinci Champions Vedrete Sbacca tutto In realtà Secondo me In un contesto europeo L'Inter È una squadra Normale Che fa grande fatica Con tutte È chiaro Che nel girone No Classico di prima Sei tu È un'altra squadra Te la giochi Arrivi primo Secondo Con questa formula Non vorrei Che succedesse L'irreparabile Perché io L'Inter La vedo Come vi ho già detto Una squadra Di medio Bassa Classifica In Europa Non la vedo Una grande squadra Che espressione Avevi usato Vedo più pronta Il sassuolo D'Europa Vedo più pronta La Juventus In prospettiva Di un Inter Che invece È una squadra Un po' strana Ma non parliamo In prospettiva Parliamo del presente Del presente È una squadra Che se la gioca Però Non vorrei Che succedesse L'irreparabile Io credo Scusami No no vabbè Perché Fa un calcio Vecchio Vecchio Squadra vecchia Calcio vecchio No Squadra vecchia Sì Squadra vecchia Come emotività No Di età Anagrafica Cioè Quando fai 3-4 anni Sempre uguali Che poi Io l'ho presa la lettera Credo che sia Una delle squadre Più vecchie Hai mangiato Troppe lasagne E inizia ad essere pieno E quindi Non vorrei Che succedesse Irreparabile Diciamo Se devo fare un pronostico Dico di no Nelle prime volte Ci arriva Ma Ci metto Un grande punto Interrogativo Io leggo Questi nomi E credo Perderanno Col Manchester City Quella è l'unica Certezza Che ho Già si inizia A prendere Delle belle sberle Col Manchester City E si torna Sulla terra Perché la presunzione Dell'Inter Mi fa Molta Paura Mi fa pensare Che possono fallire Comunque L'Inter è la squadra Più vecchia D'Italia 29 anni di media Vecchia Con un calcio Vecchio No Non sono d'accordo Con questa affermazione Non esprimono Un calcio vecchio L'Inter è una squadra Dinamica Che è in grado Di adattarsi All'avversario Che hanno di fronte Cioè Quando devono Fare la partita Avere il pallone Creare occasioni Lo fanno Quando hanno una big davanti Mi ricordo La finale di Champions Che hanno perso Col Manchester City Non si fanno problemi Ad aspettare Sanno contenere Gli avversari E partire in contropiede Secondo me Quella finale lì È stata Veramente Una coincidenza Fortunata Quando hanno perso Però Che non succederà Mai più Nella storia dell'Inter L'anno scorso L'Inter Ha perso Due partite In campionato Col Sassuolo Regalate Regalate tutte e due In cambio di qualche giovane E sono stati Eliminati I calci di rigore Dall'Atletico Madrid E hanno perso In Coppa Italia Col Bologna Ma Cioè È veramente poco Secondo me L'Inter poi Con i nuovi innesti Non può Che continuare Su una striscia positiva Fare bene Io li metto Io li metto Nelle prime Nelle prime 8 Anch'io Ma con un bel punto interrogativo Secondo me L'Inter può essere Tra le italiane La delusione Tra virgolette Che arriverà Comunque agli ottavi Ma dovrà passare Dai playoff Secondo me Arriva tipo decima Troppo del genere Curioso Io vedo più L'Inter in semifinale No No è troppo Non lo so Però Io ho un grande punto Sull'Inter Mi gina in testa Qualcosa di non buono Perché Avete una squadra Che probabilmente Ripeto È come Quando torni da un matrimonio Che hai mangiato tanto E devi rimangiare Secondo me Fanno fatica Quest'anno Faranno una grande fatica Compeso Lautaro Che farà La metà dei gol Dell'anno scorso Va bene Staremo a vedere Volete provare A dire brevemente Chi pensate Vincerà questa Champions Proprio Risposta secca Una motivazione breve Per me la vince il City Perché se lo merita Perché Ne avrebbe dovuto Vincere cinque Ne ha vinta una Solo perché Il calcio È comandato Dal potere Del Real Madrid E Prima anche Del Barcellona Cioè non è possibile Che negli ultimi Quindici anni Abbiamo vinto Tutte le Champions League O quasi Real Madrid Del Barcellona Qualche volta Il Bayern Monaco E una Liverpool Però Questo è Real Madrid Chelsea Comand Sì Vabbè Però sono tutte Una a una Il Bayern Ok è una grande città Però Real Madrid In particolare Lasciamo stare Il Barcellona È una squadra Che veramente Ha troppo Troppo influenza Nel calcio Non è Semplicemente La più forte Perché spende Più Perché c'è Giocatori più forti Ma è anche Una squadra Che ha troppi Favori In generale In Champions League Quindi Il City Si merita di vincere Questa Champions Perché Gliel'hanno Fottute Almeno due Tre E poi Ora Lo rivedo Rivedo Un grande City No Non gliel'hanno Fottute Quella col Champions Quella col Chelsea L'hanno persa loro Non l'ha vinta Non l'ha vinta Al Chelsea Una volta Andò fuori Real Madrid Uno scandalo Totale Un po' Ne hanno sbagliato Loro Un po' Uno scandalo Totale E lo scorso anno È sempre mancato Qualcosa Sì Ma uno scandalo Totale Anche lo scorso anno È sempre mancato Qualcosa E il Real Madrid Troppo Potere Nel calcio Basta Con questo Real Madrid Chiama il calcio Deve tifare Contro il Real Madrid Nico Se c'è una situazione Dubbia C'è il Real Madrid Di mezzo È incredibile C'è anche Anche lo scorso anno Quel gol Annullato Non è stato annullato Di fatto Perché il gioco È stato fermato prima Di De Ligt In semifinale Col Bayern Sono dubbie Sono cose dubbie E non so perché C'è sempre di mezzo Il Real Mi trovo Mi trovo in disaccordo Su questi episodi In particolare L'arbitro Aveva fischiato Da molto prima Che De Ligt In pasta Aveva fischiato Molto prima Stava scendendo il pallone Non l'aveva ancora colpito Cioè lui ha tirato Dopo il fischio Purti era fermo Che doveva fare? Si fa un errore Gravissimo nell'arbitro Deve lasciare correre Come lasciano correre Tutte le azioni De Ligt A Madrid O come danno sempre Ricordare all'Inter E poi lo vanno a vedere Al VAR Comunque se Real Madrid Vuole vincere tutti gli anni Che ce lo dica Non la guardiamo più Vincere Madrid E basta Ecco vedi Si parlava prima Del fascio della Champions Questa cosa Che vince sempre il Real E ammazza Il fascio della Champions Ma c'è Compro tutti i migliori giocatori C'hanno più soldi Più potere Hanno un'influenza enorme A livello generale Nel calcio Senza voler dire altre cose Gioca bene No Fa cagare Però poi Vince Perché c'ha il giocatore C'ha il favorino C'ha una forza Che Pur il City Pur avendo gli anni investito Avendo fatto la grande squadra Non ce la fa A tenere quel livello No Anche c'è Mbappé Si prende Mbappé C'è quello Si prende quello Cioè Le amiche Real Madrid Ti Cannibalizza Il calcio In maniera Secondo me eccessiva Forse Io Se devo indicare Una squadra favorita Per la Champions Dico Manchester City E dico Real Madrid Perché Madrid I Blancos Hanno vinto lo scorso anno E si sono rinforzati Hanno aggiunto Ad un Ad un gruppo di giocatori Già incredibile Uno dei migliori Giocatori del mondo Vabbè Non lo definisco Il migliore giocatore Del mondo In questo momento Perché Gli ultimi due anni Mi ha un po' deluso Nelle grandi occasioni Non è stato presente Ma non voglio dire Solo queste due squadre Io Sono ottimista Sul percorso Che può fare Il Barcellona In Champions League Penso che sia una squadra Che È da qualche anno Che diciamo Possono fare bene Ma che stia Raggiungendo La maturità Hanno scoperto Un talento Generazionale La Miniamal E hanno Tanti ragazzi Interessanti L'anno scorso Sono stati eliminati Per una stupidità Di un loro difensore Araujo Che si è fatto espellere Durante la gara di ritorno E in quell'occasione È passato il Paris Saint Germain Ma il Barcellona Era di gran lunga La squadra migliore Tra le due Quindi io spero Che il Barça Possa fare Un gran bel percorso Quest'anno Mi farebbe piacere Perché c'è altri giocatori Anche Olmo Ha preso Insomma Una bella squadra Che ha fatto gol In tutte le partite Che ha giocato Poi hanno Vari giocatori Della cantera Va bene Yama Alma Cubarsi Balde Stanno facendo giocare Due centrocampisti Spagnoli Che non conoscevo prima Sì Uno si chiama Bernal No Perché si è fatto male Dopo una partita Non posso aiutarti Non so Fortissimo Poi deve tornare Gavi Quindi È una gran bella squadra Bernal Quei ragazzi Ragazzi Bernal Bernal È il centrocampista Del futuro Insieme a Kobe Ma no Sono i due Migliori centrocampisti Attualmente Nel calcio Europeo Ho visto quella Mezza partita Poi l'avevo seguito Sono rimasto A ghiacciare Infatti l'hanno buttato In dentro subito Sono rimasto A bocca aperta Clamoroso Bernal del Barcellona E non devo dimenticare Pedri L'unico punto interrogativo Non si sa che sono forti No Yamal Certo Ma questo qui Quando l'ho visto il campo Mi sono andato a vedere Delle robe Sono rimasto a bocca aperta Sono dei ragazzi Eccezionali L'unico punto interrogativo Che ho sul Barça È Lewandowski Che inizia a avere Una certa età E non segna più Con la stessa continuità Tante occasioni Non è in grado Di concretizzare Eh ma Ferran Torres Non è Quell'attaccante Da risolverti La partita E poi un po' La difesa Vediamo un po' Però Penso che possono fare Molto bene Vedo Barcellona Inter in semifinale C'è una camera spenta Sì sì Quella è spenta da tempo Dai Nico Il tuo E poi chiudiamo Allora Beh Le favorite sono ovviamente Reale City Però Ne abbiamo già parlato ampiamente Ma Enriquei non vince mai Enriquei non vince mai Però farà molto bene Il Paris Saint Germain Sì sì Sono convinto anche io Il Paris ha completamente Cambiato volto Da quando hanno mandato Bappé sarebbe poetico Che vincessero Senza tutte quelle stelle Anche se hanno speso tanto Per costruire questa rosa Ma è la strada giusta Passa dai piedi di Barcolà Passa dai piedi Di chi altro Di Ousmane Dembélé Però è un giocatore A mio avviso Troppo discontinuo Vediamo Sì però Dal City L'ho visto bene Ho rivisto un grande Grealish Ho rivisto Ma si parlava di PSG Non di City Sì no Io pensavo alle favorite PSG ok Però ha dei limiti Io sarei felice Vincesse Però ha dei limiti Pensavo alle favorite La mia testa Al City Forse è quella squadra Che può competere Con la Madrid Più di tutte Nicola vuoi dare una motivazione Per la tua scelta E poi chiudiamo Sì Ok Il Paris Saint Germain È una squadra Che piano piano Sta cambiando volto E Quando ragioni così Quando fai investimenti futuri Eccetera Penso che Vieni premiato Ok Ragionando così Questo modo di fare calcio Quasi moneyball Che è paradossale Parlarne di Col PSG Che negli ultimi anni Ci ha dimostrato Di Quando c'è da tirare fuori i soldi Si tirano fuori Spendendoli spesso Male E per giocatori già quasi finiti Escludo Vabbè Mbappé È l'eccezione Conferma la regola Tra virgolette Enrique Piano piano Sta riuscendo a modellarla E secondo me Il PSG Può sorprenderci Enrique è un grande allenatore Luis Enrique È uno dei miei preferiti Tre allenatori preferiti al mondo Io Lo amo Gioca Proprio Gli piace il calcio Si vede Non è stato molto fortunato Nel suo percorso Al di là Delle questioni personali Parlo di calcio Poteva fare Molto di più Perché è veramente Un bravo allenatore Io non capisco Tipo come il Milan Non possa aver pensato Invece di andare a Fonseca A fare questi esperimenti No vabbè Luis Enrique Era già legato A Paris Quest'estate Lo capisco Però magari l'estate prima Quando c'era già il dubbio Su Pioli Andare Forse l'hanno fatto Andare a sondare A sentire se Enrique Fosse disponibile Sarebbe stato un grande colpo Gli dai tre anni Enrique ti fa un grande progetto Va bene signori A meno che ci sia qualcosa Che vogliate aggiungere Io vi ringrazio Di questa bella chiacchierata Come sempre È un piacere Voi da casa Fateci sapere nei commenti Che cosa pensate Del video Che cosa pensate Della nuova Champions League Del nuovo format Se siete arrivati Fino a questo punto Anche di chi pensate Possa andare fino in fondo Io non ho nient'altro Da aggiungere Vi saluto Con tanto amore Grazie Ciao a tutti E speriamo che Il gomito di Spadoni Si rimetta a posto Grazie a tutti Grazie a tutti